Oggi si insedia la Commissione Assembleare stessa, Statuto e Regolamento, che è una delle commissioni permanenti della nostra Assemblea, che quindi affronta temi e riveste competenze inserite nell'ordinaria attività della Regione. Una commissione però che per ragioni diverse è connotata ovviamente da straordinarietà, straordinarietà che ci accomuna le modalità di lavoro con le quali operano anche altre commissioni connesse alla vicenda oggettivamente inaspettata rappresentata dalla pandemia da Covid-19. L'esigenza quindi di ricentrare l'attenzione dell'Assemblea sull'aggiornamento dello Statuto, del proprio regolamento, degli strumenti fondanti del suo agire fino alla valutazione della normativa è senza dubbio fortemente motivata dalla condizione che stiamo vivendo e dalla necessità di definire le condizioni e gli strumenti per rendere ordinario ciò che oggi è straordinario, come la possibilità di partecipare da remoto in determinate situazioni ai lavori dell'Assemblea. È proprio perché tanto sta cambiando che noi dobbiamo essere in grado di capire come aggiornare le modalità e gli strumenti con cui lavorare. Il nostro regolamento con le innovazioni che i commissari e l'Assemblea tutta vorranno apportare mi auguro possa essere una piccola testimonianza proprio di questo cambiamento.